Come vai a confessare? Ah, io vado, dico i miei peccati, il prete mi perdona e poi torno in pace. Tu non hai capito niente. Hai creduto che il confessionale fosse una tintoria per chiudere le macchine. Soltanto si può fare quando io sento il mio peccato, mi vergogno e chiedo il perdono a Dio. E mi sento perdonato dal Padre. Chiediamo la grazia della vergogna davanti a Dio.